Da Samarkand a servizio pubblico, la forza del Michele Pensiero è stata incessantemente rivolta verso la libertà. Quindi voglio citare ormai un uomo che si pone quasi al di sopra delle parti d'Italia e dice noi non possiamo affrontare la catastrofe delinquenziale con i mezzi ordinari di repressione. Dice Graxi nella sua intervista a Scalfari, lei che dice? Ma io non credo che si riferisse a strumenti legislativi eccezionali, almeno così perso. Credo che si riferisse alla necessità di un impiego massiccio di mezzi, strumenti materiali, umani e legislativi ordinari, meno eccezionali, riguardanti questa materia. Quello che ha detto il collega è verissimo. Un processo, certo, ma anche strumenti giuridici. Soprattutto strumenti di indagini anche, no? Certamente, ma anche un quadro normativo di riferimento che consenta a questo nuovo processo di poter decollare. Il collega si riferiva proprio al problema dell'oralità, quindi è improntato il nuovo processo penale. E quindi alla necessità di avere persone che al dibattimento sostengono come si sono svelti i fatti. Sì, persone che parlano, persone parlanti, ma che sono i fatti di mafia, lei... Ma io credo che avvere se ci sono le condizioni perché ciò avvenga. Ma poi i pentiti non vengono protetti, si inventano come vengono protetti. Quindi qui viene il problema di trovare dei ledi giuridici adeguati per consentire a queste persone, e a questi soggetti, di poter parlare nelle condizioni in cui non debbano sopportare rischi eccessivi per l'incomunità personale. In america c'è un programma di protezione del test efficacissimo. E di questo noi parliamo ormai da anni. C'è stato un... Il convegno dei pentiti, lei l'ha effettiva, no? Sì, però no. Sono proprio arrabbiatissimi dello Stato perché, vabbè, a parte decine di ammazzamenti in tutte le famiglie di pentiti, loro lamentano una mancata protezione. E' proprio questo il punto. Il pentito, o comunque il test, non può essere utilizzato, spremuto e buttato via. Sono problemi di credibilità dello Stato. Ecco, io la fermo qui anche perché dopo, avendo questa ghiotta che la sono nella bella, alla fine qualche domanda in più le dovrò, le dovrò anche riloggiare. La meta della libertà. Michele, giornalista e conduttore televisivo di successo, l'ha perseguita attraverso la caparbia ricerca della verità. Tessile, dico bene? E lei si è trovato pure lei faccia a faccia con queste richieste di tangenti? Sì, mi sono trovato, come un po' sanno tutti, più volte. Ho subito due estruzioni, una rapina, oltre a intimidazioni varie. L'ultima è stata una minaccia di attentato? Sì, è stata il 10 gennaio, poi sono venuto in fabbrica, sono venuto a casa. Questa io volevo dire proprio al giudice Di Maggio, o anche agli altri, certo, maggiori interlocutori, perché sono quelli che in fondo hanno il potere in queste vicende. Il giudice Di Maggio ha detto il primato della legge, il primato della politica, il primato della morale. Ma c'è un primato superiore, quello della qualità del consenso, ovvero la formazione del consenso, che è poi quella l'arma della mafia. La prima cosa che controlla la mafia, cosa d'altra parte è facile a trovarne una soluzione, è il voto. La qualità del consenso. A una cattiva raccolta di voti, corrisponde a una cattiva democrazia. I valori morali, caro giudice, sono transeunti, si formano, sono contemporanei. Non c'è un valore morale, non c'è una legge valida per sempre. La legge la fanno i politici, la fanno buona, la fanno buona, relativa al consenso. Sempre, se i politici hanno un cattivo consenso, faranno le cattive leggi. E allora, noi dobbiamo curare la qualità del consenso. Com'è che da questi onesti e sani principi, Michele, se ne è allontanato? Cosa ha spinto Michele, a sciogliersi nel PD? Tanto da dire. Quanti di voi alzano la mano per dire che noi dobbiamo rimanere in AI? E adesso che fate di fronte a queste mani, le tagliate tutte queste mani, le tagliate tutte queste mani. Questo è importante, Bertani, che vi sei simpatico. Falle contare queste mani qui. Falle contare questi 30.000 che ci sono riuniti qua, stasera, intorno a noi. Per quale recondita ragione, Michele, ha arruolato le 30.000 mani degli ignari partecipanti alla manifestazione, nelle fila del PD? Mistero. Il Michele pensiero nelle mani di Bersani. Un politico Bersani, intento esclusivamente agli interessi della propria ditta. E non della collettività. Ho fatto il film avanti, cioè, sono capace anch'io, eh, di ribaltare un tavolo. Ha fatto di vedere di che pasta sono fatti? No, io ho cercato di far vedere che sapevo che avevano davanti delle persone che avevano preso il 25% dei voti. Il 25% dei voti. Cioè gente, un movimento, che ha avuto un risultato che non c'è mai stato in nessuna democrazia mondiale, perché questi al primo colpo hanno preso il 25%. E quindi io ho mostrato umiltà, disponibilità, rispetto, e gli ho anche detto alla Repubblica. E quindi arrivati a un certo punto, il Presidente della Repubblica era più in condizioni di mandare avanti la pratica e bisognava aspettare il nuovo appuntamento. E certo, davanti alla novità come quella del Movimento 5 Stelle, è chiaro che il tentativo di vedere se ci fosse un minimo di chiave di discussione, mica che io volevo fare l'alleanza con Grillo, non mi sono mica matto. Io facevo una proposta che era, su otto punti di cambiamento avviamo la legislatura, consentite, come ritenete, mi rivolgevo mica solo loro, a tutti quanti, al Senato, fate partire, con un gesto tecnico se volete, e poi provvedimento per provvedimento ci misuriamo in Parlamento. Bersani, la contraddizione personificata. Il momento più significativo, del tradimento del Michele Pensiero, da parte di Michele, è stato nella santificazione politica, di Giorgio Napolitano. Presidente Napolitano, la chiamerò ancora così, è un populista anomalo che le parla. Lei ricorda di sicuro quella simpatica canaglia che fu per tanti anni il mio direttore al Tg3, Sandro Curzi, l'unico capace di fare stare insieme il diavolo e l'acqua santa. Di essere amico di Craxi Andreotti e di permettere a uno come me di dar vita a Samarkand, il programma che ha il merito o la colpa di aver accompagnato alla tomba la Prima Repubblica. Curzi mi precettò una sera per una cena con Giancarlo Paietta. Ferrara scrive nel libro di cui parleremo... L'editoriale di Michele continua, tra ricordi, autocitazioni e coniossi insegnamenti familiari, fino a dire... Oggi il PC non c'è più e c'è il partito di Renzi, che nonostante il numero di deputati e senatori, nonostante il suo potere, sicuramente non è più comunista. Ma per me è tornato ad essere il partito che non c'è. Presidente, so di aver fatto molte trasmissioni... Avete capito bene, per Michele, il partito che non c'è è il partito democratico. O meglio, questo partito democratico. Ma i comunisti come lei, e mi scuserà se continuo a considerarla un comunista, quando assumono cariche istituzionali diventano una cosa sola con lo Stato, immaccabilmente. Così, quando in Italia si è venuta a creare, un momento lascerà... Quello, della trattativa, Stato-mafia. L'editoriale di Michele, si conclude con il suo devoto ringraziamento, nei confronti del peggiore presidente della Repubblica italiana. E pensare, che tutto ciò è avvenuto, dopo il vergognoso falò delle intercettazioni. Roba, da far rivoltarne la tomba, libero grassi. La formazione del consenso, che è poi quella l'arma della mafia. La prima cosa che controlla la mafia, cosa d'altra parte è facile, a trovarne una soluzione, è il voto. La qualità del consenso. A una cattiva raccolta di voti, corrisponde a una cattiva democrazia. Nel frattempo, Michele, esponente del ritrovato partito che non c'è, agli aspidi, ridicolizza il Movimento 5 Stelle. Un attimo, Di Maio, che se no s'annoia anche quelli suoi fan. Di Maio, che se no s'annoia anche quelli suoi fan. Di Maio, che se no s'annoia anche quelli suoi fan. Non credo, perché insomma sono argomenti che le dovrebbero essere. No, anzi, il merito di questa puntata è proprio quello di aver riportato l'attenzione su un tema di cui ci si era dimenticati. E domani mattina, molto probabilmente, si comincerà a straparlare del fatto che questa puntata magari ha acceso in negativo i riflettori sulla Campania. Ma quello che stanno cercando i cittadini della provincia di Napoli e Caserta è un po' di verità, anche per sconfessare il luogo comune. Perché questo tema... Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.